ciao a tutti io sono il dilandogofilo oggi recensione dell'albo numero 326 sulla pelle un albo che dal punto di vista personale mio personale significa molto ma in termini invece di albo in sé di dilandog non grida al miracolo non mi è piaciuto troppo adesso vi andrò a spiegare tutti i miei due punti di vista innanzitutto copertine di angelo stano teste di en e disegni di dallagnol perché mi sta tanto a cuore questo albo semplice perché è uscito nel novembre 2013 una data particolare per me un albo che è caduto a fagiolo infatti novembre nel novembre del 2013 dovevo farmi un tatuaggio se non ricordo male questo albo è uscito proprio a fine mese proprio nell'esatto giorno in cui dovevo farmi il tatuaggio l'ho fatto il tatuaggio no alla fine non l'ho fatto perché sono risultato allergico all'inchiostro quindi appunto non mi sono più tatuato cosa visto che siete curiosoni lo so ve lo dico cosa dovevo tatuarmi dovevo tatuarmi un tributo ad un film ivy rain più che altro è un film è un gioco per la playstation 3 che però in realtà un film si chiama ivy rain ea v rain pioggia pesante per chi volesse cercarlo un film che mi è piaciuto davvero tanto a tal punto di tatuarmi la frase del film fino a che punto ti spingeresti per salvare qualcuno che ami davvero una frase fortissima per chi è religioso poi magari come sapete gesù è andato in croce si è spinto fino alla croce per salvare qualcuno che amava che sarebbe l'uomo ma qui siamo nel filosofico religioso detto questo alla fine non ho fatto appunto il tatuaggio perché sono allergico e volevo fare una catenina una catenina un ciondolo con inciso il disegnino del tatuaggio invece che farmelo sulla gamba lo facevo incidere appunto con laser sulla catenina l'ho fatto però è venuto fuori un disastro poi davvero è successo di tutto e di più a quella a quella catenina quindi preferisco non parlarne sicuramente però ne farò un'altra a vospis mi sembra sulla quarantina di euro tra incisione tutto per fare la catenina d'argento davvero bella però dopo l'effetto patinato andato via comunque una storia troppo lunga e che a voi sicuramente non interessa fatto sta che appunto è caduto a fagiolo questo albo detto te va proprio questo mese esce sulla pelle che parla di tatuaggi di che cosa parla questa storia indovinate ne ho parlato fino adesso ecco tatuaggi che se disegnati nel modo sbagliato quindi quelli tribali possono scatenare davvero eventi catastrofici in questo caso ci sono dei ragazzi che amano tatuarsi simboli e tutti tutti i rigori che si usano tribali non sanno il significato e vanno appunto a tatuarsi sulla propria pelle nel proprio essere cose demoniache bisogna sempre informarsi secondo me prima di fare un disegno perché metti caso che poi evoca qualcosa di strano sono cose vere io me la faccio addosso ogni volta che parlo di queste cose bisogna stare attento a quello che si scrive a quello che si dice quello che si fa state molto attenti soprattutto ai tatuaggi tribali andate a cercare bene se volete fare un tatuaggio tribale andate a cercare bene il significato di quel disegno perché in questa storia va bene che frutto di fantasia ma non è detto che può succedere anche nella realtà una cosa del genere dove appunto uno va a disegnarsi cose strane senza saperne il significato e dopo accadono cose brutte dylan indagherà sulla vicenda scoprirà che appunto c'è questo il capo della tribù che fa questi disegni e tutti impazziscono tutti diventano dei mostri alla fine dylan gli spaga un colpo in testa e il cattivone di turno muore non c'è una trama elaboratissima non c'è niente di complicato solo quello che vi ho detto finora perché brutto dal punto di vista dell'album in sé perché i disegni di dallagnol sono ancora peggiori secondo me di quelli di piccato ho trovato finalmente un artista che è capace artista tra virgolette secondo me che riesce a battere piccato nella bruttezza dei disegni infatti qui troviamo un tratto molto grosso oltre a dei disegni ancora più cubici dei disegni ancora meno succosi troviamo un tratto della penna proprio grosso che fa diventare tutto molto cubico davvero brutto dal mio punto di vista non so guardate vi avvicino alla telecamera in qualche modo sperando di non far danni guardate dylan che faccia ha una faccia davvero strana per questo non non mi è piaciuto l'albo ecco un po di dittate in giro sull'obiettivo quindi vi ho detto la mia spoga vi ho detto i cavoli miei e vi ho detto cosa ne penso di questo albo un albo che secondo me è insufficiente l'ho comprato perché appunto sapete perché l'ho comprato se no se non avevo niente a che fare io in quel determinato periodo con i tatuaggi non l'avrei mai comprato perché un albo davvero da perdere proprio non è niente di particolare una storia inutile noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'incubo se vuoi ricevere la notifica ogni volta che faccio un nuovo video iscriviti al canale condividi questo video se ti è piaciuto dog.dylan33.it per le tue domande via mail noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo del narratore dell'incubo grazie a tutti